ragazzi benvenuti in questo nuovo video collegato a quello precedente perché quando io poi ho caricato il video prima la live non era ancora stata completamente finita e ragazzi dopo è successo questo l'app san zino mini process schiantato cioè nella diretta live mondiale in cui tu presenti il drone che dovrebbe essere il drone numero 1 sotto i 250 grammi il non plus ultra del meglio demolire dj mini 2 è successo questo è successo questo si è spiantato e guardate le facce anche dei presenti cioè veramente io credo che una figura di merda così è impossibile da dire cioè io credo che una figura di merda più di questa sia impossibile da fare per una ditta che produce droni presentare un drone che si schianta nella presentazione mondiale soprattutto di un drone che stai proponendo come drone top sotto i 250 grammi con caratteristiche fantascientifiche e mi si schianta in una live stando lì in overing non so cosa sia successo bene ma ragazzi pazzesco pazzesco ragazzi questo video era solo per fare un collegamento a quello precedente perché non potevo non far vedere una cosa del genere perché è imbarazzante imbarazzante quindi ragazzi se vi va lasciatemi un pollice su anche in questo video perché veramente non neanche le parole per chiudere il video ragazzi ciao